Vi ricordo quando ho comprato la mia prima casa, la prima volta nella mia vita, ero a Gallarate e io ero laureato in giurisprudenza, abilitato al patrocinio di mestiere, facevo l'avvocato, facevo pratica, facevo, capito, quando ti abiti al patrocinio c'hai le tue causettine, e ugualmente mi ricordo che avevo così tanti problemi a capirci e a cercare di non farmi intortare rispetto all'agente immobiliare con cui trattavamo, che andai con un mio amico che faceva l'agente immobiliare, spacciandolo per mio zio, per cercare di aiutarmi nella trattativa. Complessivamente l'esperienza d'acquisto direi che è stata orrenda, cioè orrenda, è orrendo tutto l'insieme, se hai comprato casa di tattoo house, se l'hai venduta, è orrenda sia in Italia, ma anche qua in Inghilterra, anche negli Stati Uniti in generale, per mille motivi. Da un lato c'è il problema degli agenti immobiliari, per carità ci sono, ho amici agenti immobiliari molto bravi, molto corretti, molto etici, ci sono agenzie super professionali molto brave, ma la media purtroppo in Italia, qua in Inghilterra, è una media veramente pessima, dove non hai preparazione, dove c'hai capito, spannometricità continua, dove l'interesse suo non è allineato al tuo, cosiddetto agency dilemma, no? Non siamo allineati, l'incentivo economico non ci porta nella stessa direzione. E poi complessivamente il rapporto con le banche, il tema del credit score per darti il mutuo, i tempi, magari vuoi prendere casa ma poi il mutuo non te lo danno, passo una vita, la perizia, il perito mi ricordo ai tempi, facciamo una valutazione, ma cosa? Cioè, sembra quella roba lì, la sensazione ecco, di quando prendi un taxi da Amalfi, che sono nove licenze, e dici, oh guarda, devo andare là, dieci metri di distanza, quanto costa? 50 euro. Ma come 50 euro? Eh, mi ha detto il tassista quando sono andato, però devo anche tornare indietro. Vabbè, ma se anche devi tornare indietro. Dai, quando un'industria come quella immobiliare, del comprare casa, affittare, vendere casa, è così pessima dal punto di vista dell'esperienza, e il business è così alto, 100 miliardi di dollari di fees solamente negli Stati Uniti, e consideriamo che eBay fa meno di dieci miliardi vendendo qualunque roba nel mondo, in un mercato molto ampio, a quel punto sai con certezza che lì arriva la prossima ondata. Quindi il mondo dei player tecnologici si butta lì per cercare di prendere via tutto quel mercato. Cosa succederà? Ne parliamo dopo la seconda. Questo video è offerto da 4books, l'app dove puoi leggere e ascoltare in italiano i concetti chiave dei migliori libri di business. In 20 minuti al giorno ti tieni aggiornato su tutto il business che conta, e in esclusiva per la community di Monti, se vai su 4books.com, hai il 10% di sconto usando il codice che vedi in sovraimpressione. Se vi interessa il tema, così per curiosità personale o perché lavorate nel settore, la presentazione assolutamente da andarsi a vedere è quella che trovate su YouTube, Andresen Orovitz, cercate Real Estate, Software It's Real Estate, poi cerco di mettere il link da qualche parte, ma se cercate meglio, così uno fa quella fatica e poi la guarda di più. 20 minuti di presentazione fatta molto bene, dove cerco di riepilogarvi appunto alcuni dati che sono interessanti. Numero 1, il cambiamento è già in essere, no? Pensiamo alla marea di siti, di app che ci sono sul tema immobiliare. Io vedo qui in Inghilterra, Rightmove è un colosso, è zillo, cioè ce n'è 3.000 di siti che hanno un grande impatto, fanno molta informazione, cercano di darti tutta una serie di dati, si mettono in mezzo tra chi compra e chi vende, cercano, capito, di portarsi a casa la pagnottina in vari modi, con la parte di pubblicità, con la percentuale su le commissioni, eccetera, eccetera. La cosa interessante, e questo si è visto anche in altri settori, è che all'inizio ci si fermava lì. Pensate, Amazon all'inizio vende i suoi produttini stop. Poi quando hanno cominciato ad arrivare molti più soldi da parte degli investitori, quando il software ha cominciato ad essere sempre più elaborato, quando complessivamente la tecnologia ha detto, ma perché fermarmi a un pezzettino di questa filiera? La posso prendere tutta? Posso essere così detto full stack? A quel punto uno dice, sai cos'è? Cambiamo proprio il mercato immobiliare. Prendiamocelo tutto, non una fettina di torta, tutta la torta. Diverse le realtà interessanti le trovate sulla presentazione che vi ho detto, ve ne cito alcune che mi hanno colpito, una si chiama Fly Homes, e in pratica risolve questo problema. Quando tu arrivi, vuoi comprare casa, e dici ok, ho un po' di cash, di contanti, e poi però mi serve un mutuo. Dall'altro lato arriva un altro che dice, aspetta, aspetta, io ho tutto cash, e tu sei andato. Allora Fly Homes risolve il problema perché dice, ok, se tu chiaramente sei qualificato come compratore, fanno i loro controlli, non è che nessuno regala soldi a nessuno. A quel punto, se tu arrivi con la tua parte di cash, io aggiungo il resto, la casa la compro io, e quando ti arriva il grano, capito, col mutuo finale, a quel punto me li ridai, e io mi tengo un cut. Ho detto in italiano, che se no mi dico sempre, ma io parlo con i termini inglesi, mi vengo in Inghilterra, scusate se parlo con i termini inglesi, una percentuale. Ok. Un altro modello dirompente, è quello di Open Door. loro in pratica risolvono il problema del voglio vendere la casa, ma quando la metto sul mercato, certo, dipende dal mercato, ma non è che in dieci secondi l'ho venduta. Ci sono magari mesi che la mia casa, capito, sta sul mercato e nessuno la compra. A questo punto loro cosa fanno? La comprano loro. Anche in questo caso chiaramente fanno le loro valutazioni, fanno le loro analisi, se funziona per loro o meno, non è che compran tutto. Ci hanno un sacco di capitale per comprare immobili, e uno dovrebbe vederli come Netflix. Cioè, come Netflix crea i propri contenuti originali, e spende, capito, 8 billion all'anno per i contenuti originali, qua lo fanno sulle case. Compri, capito, i tuoi contenuti originali che sono gli immobili, e a quel punto uno entra in Open Door e dice guarda tutte ste case qua, che sono gli Open Door. Quando vendi, a quel punto c'hanno la loro pagnotta. Voi capite che un modello così, come fa a fare un'agenzia immobiliare? Doveresti, capito, essere un fondo gigantesco che riesce a fare queste operazioni. È proprio lontano dalla mentalità dell'intermediario. Qua se hai capito quello che si mette in casa, tutte queste properties, è un approccio molto diverso, molto aggressivo. Altro esempio che mi ha colpito si chiama DIVVY, dove in sostanza, anche in questo caso, comprano la casa per te, te l'affittano per tre anni, tu in quei tre anni continui a pagare l'affitto, ma continui a crescere anche come percentuale di equity, no? Quanta quota hai di quella casa, e poi dopo tre anni decidi se comprarlo o meno. È interessante, no? Come modello. E l'altro che mi ha incuriosito si chiama Point. Dove in pratica, se tu hai una casa, e a quel punto magari sei strozzato, c'hai, capito, dei debiti o una scelta economica, che cosa fai? Vendi un pezzetto della tua casa a Point, e poi a quel punto, con quel grano, ti rimetti in pista, fai quello che devi, e quando sei pronto, poi potenzialmente ricomprarti da Point, quel pezzetto della tua casa, oppure quando vendi l'immobile, loro ottengono, capito, la loro percentuale, in base a quanto hanno comprato. Ecco, una serie di modelli che sono oggettivamente diversi, nuovi, e che rivoluzioneranno un settore che sembrava un settore, capito, impossibile da rivoluzionare. Le case, capito? Gli immobili veri, la terra. Quindi staremo a vedere.